Climablock piace alla natura ed è il sistema costruttivo ideale per l'edilizia sostenibile. Basti pensare che l'EPS è composto dal 2% di materiale e dal 98% di aria, per cui l'impatto ambientale, calcolato in riferimento all'intero ciclo di vita di un edificio, si riduce al minimo. Inoltre, il prodotto non ha valori nutritivi e dunque non è attaccabile da batteri, funghi e altri microorganismi. Ma non basta. L'EPS è atossico e non determina emissioni nocive, in quanto non contiene gas inquinanti, come CFC e HCFC. Non causa emissioni radioattive e non genera campi elettrici o magnetici. In ogni caso, le componenti in EPS di un sistema aggiunto a fine vita sono totalmente riciclabili. Grazie a tutti.